Siamo giunti alla quarta corsa, premio Zarina di Isa, è un miglio per sole femmine di 4 anni, sono in 9 al via. La prima fila per Tress Reinas, Trilli, Girl Play, Tocabocca, Teruara S, Tanai, Tecladesi e Decrack LF. Seconda fila per Tina Photo SM e Tamara Falco. Rapporto di scuderia fra il numero 6 di Tecladesi e il numero 9 di Tamara Falco. L'errore in allineamento per Tina Photo SM. C'è lotta per il comando tra Teruara S, Decrack LF, Tress Reinas che rientra lungo la corda, poi Trilli, Girl Play che ha all'esterno, Tanai. Tress Reinas cerca di rientrare a Teruara S che insiste. Teruara S supera Tress Reinas ma quest'ultima reagisce ancora e rientra l'avversaria. Il primo quarto però è velocissimo in 28 e 2 per Tress Reinas e Teruara S. Trilli, Girl Play segue la battistrada, si toglie Teruara S lasciando spazio a Tanai che è seguita da Decrack LF. Lungo la corda c'è Tocabocca, poi ancora Tecladesi e Tamara Falco con Teruara S che praticamente si auto elimina. Cerca ora di riprendere fiato Tress Reinas ma comunque metà gara rimane molto veloce in 59 secco per la figlia di Daggerapid che è avvicinata dalla favorita Tanai. Lungo la corda Trilli, Girl Play e Tocabocca con all'esterno Decrack LF, quindi Tamara Falco e Tecladesi. Tress Reinas leader con Al Salchi Tanai che la va ad impegnare in progressioni. Trilli, Girl Play lungo la corda davanti a Tocabocca che rimonta all'interno Decrack LF. Siamo al paletto dei 1200 metri raggiunto in 1.28 e mezzo da Tress Reinas che è sotto il forcing di Tanai. Trilli, Girl Play che cerca spazio, Tocabocca che ha spostato dalla corda. Tress Reinas all'interno, Tanai che insiste, Tocabocca che scatta a largo. Trilli, Girl Play che per ora non ha spazio. Lottano Tress Reinas, Tanai e Tocabocca. Trilli, Girl Play che non progredisce. Sono in tre con Tocabocca all'esterno che preme su Tanai. Poi Tress Reinas nel finale, Tocabocca che passa e vince su Tanai con Tress Reinas al terzo posto davanti a Trilli, Girl Play. 3-5-1, l'arrivo naturalmente ufficioso della quarta di Capanella, la vittoria di Tocabocca. Davide Di Stefano, 1-58 e mezzo sul mio cronometro. Media di 1-14-1, naturalmente ufficiosa per Tocabocca che ha agito terza alla corda. Ha spostato entrando in retta d'arrivo e ha imposto il suo spunto a Tanai che aveva avuto ragione della resistenza della battistrada Tress Reinas. Quest'ultima costretta però all'inizio a spendere molto per conservare la corda. Sul palo passa di giustezza ma con buona sicurezza. Tocabocca numero 3 con Davide Di Stefano al doppio in giornata nei confronti di Tanai numero 5 con Tress Reinas al terzo.